Si è lanciato contro il piccolo sommergibile agitando i suoi tentacoli e poi gli ha anche spruzzato l'inchiostro. Il grosso calamaro se l'è presa con la squadra di Greenpeace che si trovava in immersione nel mare di Bering, tra la Russia e l'Alaska. Gli operatori hanno cercato di allontanarlo spaventandolo con delle luci, ma l'effetto non è stato quello desiderato visto che si è innervosito ancora di più.